Ben trovati ad una nuova edizione del telegiornale di Telecattolica. I Vescovi di Capitanata hanno scritto e diffuso una lettera aperta sul tema della legalità. Nella lettera si fa presente che gli episodi gravi e inquietanti a cui assistiamo rendono l'intero nostro territorio ad alta esposizione mafiosa e impongono di convertirci ad un modo di vivere più trasparente caratterizzato da onestà, rettitudine e legalità, promuovendo una società più giusta e fraterna. Impegniamoci ad abbandonare il desiderio di dominare gli altri, esortano i Vescovi, e impariamo a guardarci a vicenda come persone, come figli di Dio, come fratelli che testimoniano la cultura dell'incontro. Fissiamo le nostre città con lo sguardo di Dio presente già a Foggia, Cerignola, Lucera, Manfredonia, San Severo, come nell'intera Capitanata. Il Signore ci darà il coraggio e sosterrà il nostro desiderio di conversione e la rivoluzione che più ci serve, quella della giustizia e della legalità. Coronavirus, task force in Puglia per il coronavirus, sarà fatto un censimento di tutti coloro che stanno rientrando da Nord in Puglia e che sono invitati a segnalare la loro presenza al medico curante, indicando possibili situazioni sospette. Misure di assistenza anche per turisti e predisposizione di reparti specifici con attivazione immediata delle unità di malattie infettive. In ultimo si invita a contattare i numeri di emergenza 1500 e 118 in caso di sintomi sospetti e diffidare di qualsiasi informazione che non sia stata data dalle autorità competenti. È giunta tra l'altro già la disposizione nazionale, secondo la quale tutti i cittadini che sono passati o hanno sostato nelle zone focolaio del virus in Lombardia, Veneto e Piemonte hanno l'obbligo di comunicarlo alle ASL. Sono stati pubblicati quattro nuovi bandi destinati al settore agricolo, in particolare a chi ha subito i danni a causa dell'axilella. Sentiamo i dettagli. Dopo il decreto ministeriale arrivano quattro nuovi bandi per il sostegno al settore agricolo colpito dalla xilella. È terminato il ciclo di riunioni convocato dal presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, per discutere con il partenariato sociale del decreto ministeriale sul piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia. Per la regione sono intervenuti il direttore del Dipartimento Politiche Agricole, Gianluca Nardone, e lo stesso presidente Emiliano. Nello specifico si prevede l'avvio di quattro interventi, sostegno a soggetti non economici e sostegno agli imprenditori agricoli per il ripristino dell'olivicoltura in area infetta da xilella. Sostegno alle cooperative e alle organizzazioni di produttori per il ripristino dell'olivicoltura e la riconversione verso altre specie arboree in area infetta da xilella e sostegno agli imprenditori agricoli e a loro associazioni per la salvaguardia degli olivi secolari o monumentali in area infetta da xilella. Domani 26 febbraio e il mercoledì delle ceneri, alle ore 18, Monsignor Giuseppe Giuliano, vescovo di Lucera Troia, presiderà in Cattedrale a Lucera la celebrazione. Tra le varie proposte quaresimali ci saranno nuovamente le stazioni quaresimali presiedute dal vescovo e si comincerà giovedì 27 febbraio alle 17.30 a Troia dalla Mediatrice alla Concattedrale, martedì 3 marzo a Biccari, giovedì 5 marzo a Celenza a Valfortore, martedì 10 marzo a Castelnuovo della Daunia e giovedì 12 marzo a Lucera da Cristore alla Cattedrale. Il Rotaract Club di Lucera sta mettendo in atto varie iniziative rivolte agli studenti delle scuole della città dopo il progetto Plasmare, destinato ai bambini degli istituti Manzoni Radice e Tommasoni Alighieri, allo scopo di sensibilizzare a stili di vita più ecosostenibili, sabato scorso il club lucerino presieduto da Donato Maria dell'Aquila ha incontrato gli studenti del liceo Bonghi Rosmini di Lucera per parlare di omofobia. Sentiamo i particolari. Il Rotaract Club di Lucera presieduto da Donato dell'Aquila ha organizzato un incontro con i ragazzi dell'istituto Bonghi Rosmini di Lucera sul tema Stop omofobia. Il Rotaract intende promuovere attraverso diverse iniziative il contrasto ad ogni tipo di discriminazione. Presso l'auditorium del plesso Bonghi in Viale Ferrovia sono intervenuti la dottoressa Carella, psicologa e psicoterapeuta che ha già incontrato all'Uni di Scuola Media e che ha parlato del progetto che punta a portare informazioni scientifiche corrette rispetto a quella che è l'identità sessuale, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in modo tale che ognuno si possa riconoscere nelle varie identità. Altro obiettivo è combattere forme di bullismo e discriminazione attraverso la conoscenza e il rispetto. Non sono mancate le testimonianze come quelle di Maria Rosaria Di Spirito e Roberto Tucci che hanno trasmesso ai ragazzi messaggi importanti di rispetto dell'altro e delle diversità. Sono stati diffusi attraverso i social e le testate giornalistiche locali i numeri dei biglietti estratti vincenti della lotteria Green Carnival 2020, più di 20 premi offerti da vari esercizi commerciali di Lucera. L'estrazione si è tenuta pubblicamente sabato scorso in Piazza Matteotti a conclusione della sfilata di questa prima edizione della Gran Parata di Carnevale. I primi tre biglietti vincenti sono primo premio Crociera per due persone, numero vincente 2049, secondo premio TV 55 pollici, numero vincente 0312, terzo premio Smartphone Huawei, numero vincente 4701. Si può consultare tutto l'elenco completo dei biglietti vincenti sulla pagina Facebook ufficiale del Carnevale di Lucera. Sport, la Federazione Italiana Pallacanestro ha pubblicato quello che sarà il calendario dei play-off. La Sveva Pallacanestro-Lucera è pronta a disputare questa nuova fase del campionato. Sentiamo. Campionato di Serie D di basket, la Federazione Italiana Pallacanestro Puglia ha pubblicato i nomi delle squadre che andranno a formare i due gruppi di pool promozione. Le vincenti dei due gironi guadagneranno la promozione in Serie C Silver. Diversamente dagli anni passati, quest'anno le squadre porteranno in dote nella seconda fase i punti acquisiti con le sole squadre incontrate nella regular season che rincontreranno nel proprio girone di pool promozione. Inoltre, l'altra novità è la diminuzione degli incontri. Ci saranno gare di andata e ritorno solo con le squadre provenienti dall'altro girone. La Sveva Pallacanestro-Lucera è stata inserita nel gruppo A, insieme a Brio Service Carovigno, Federiciana Pallacanestro Altamura, New Basket Lecce, Technical Sport Massafra e Armeni Brindisi. Oggi, martedì grasso, Manfredonia si appresta a festeggiare gli ultimi giorni della 67esima edizione del Carnevale. Questa sera si svolgerà la sfilata dei gruppi mascherati della Golden Night. A partire dalle 18.30 ci sarà lo spettacolo a conduzione di Michele Bottali con Vincenzo Doria e Gabriella Spagnuolo. Raduno previsto in Piazza della Libertà, poi si percorreranno Viale Aldomoro e Piazza Marconi per arrivare all'esibizione finale in Piazza del Popolo con il Rete Smash Live e la partecipazione dei DJ e speaker di Rete Smash. E con il Carnevale di Manfredonia chiudiamo qui il telegiornale. Grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima edizione. Grazie a tutti i nostri spettacoli e a tutti i nostri spettacoli.